Il Piemonte si posiziona al quarto posto a livello nazionale per attrattività. Sono positivi i risultati dello studio realizzato da The European House Ambrosetti, per conto della regione. Alla presentazione hanno partecipato il presidente Alberto Cirio, il vice presidente Elena Chiorino, l'assessore Andrea Tronzano e diverse personalità dell'imprenditoria piemontese. Conoscenza e potenza, cioè conoscere scientificamente quelli che sono i tuoi punti di forza e di debolezza è l'unico modo serio per poter avere un Piemonte forte ed attrattivo. I dati sono dati buoni, è necessario affermarlo e sottolinearlo, che sono dati scientifici che ci dicono però come il Piemonte continua a essere competitivo, continua a essere ben al di sopra della media nazionale e continua a crescere anche rispetto alle altre regioni del nord. Il risultato è stato raggiunto grazie ad alcuni ambiti di eccellenza, come l'aerospazio, l'alta tecnologia, l'industria culturale e ricreativa, l'enogastronomia. Nel complesso il Piemonte cresce o consolida il suo posizionamento nell'87,2% dei parametri considerati rispetto all'anno precedente e nel 73,9% degli indicatori considerati rispetto al periodo prepandemico. Il confronto periodo pre- e post-covid indica che la performance è stata pari o ben superiore nelle 5 dimensioni di analisi. Il 30% dei manufatti industriali che escono dalla regione Piemonte sono i primi tre posti per competitività nel mondo, secondo i dati UNCTAD dell'esportazione dei prodotti. Questo significa che sei competitivo nel mondo solo se hai due fattori, hai alta innovazione e sei competitivo anche sui prezzi o una combinazione di due elementi. La regione Piemonte, anche in questi ambiti, esprime valori di grande competitività globale.